L'imprenditore Riccardo Marini o l'ex sovrintendente dei beni archivistici e bibliografici della Toscana Diana Marta Toccafondi sono questi i due nomi che si contendono nel posto di nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Sono i più votati dall'Assemblea dei Soci che ieri è riuscita a eleggere 7 degli 8 membri elettivi del Consiglio di Indirizzo della Fondazione a cui si aggiungono altri 8 nominati dagli enti. Oltre a Toccafondi e a Marini sono entrati in ordine di preferenza Massimo Roberto Mancini, Ambra Giorgi, Raffaella Pinori, Luca Roti e Alessandro Pieraccini. L'ottavo membro sarà scelto nelle prossime Assemblee dei Soci. Il nuovo Consiglio si riunirà giovedì prossimo e sceglierà al proprio interno il presidente. La tradizione vuole che sia espressione del mondo imprenditoriale ma niente vieta di innovare puntando su una figura espressione della cultura con la C maiuscola tra l'altro al secondo mandato e quindi con un'esperienza maggiore. Il presidente uscente, Franco Bini, non esprime preferenze. L'importante è che il suo successore abbia come unico punto di riferimento la città. Mantenere la fondazione al centro della città, mantenere la città nella sua completezza al centro degli obiettivi della fondazione. Il nuovo Consiglio di Indirizzo è stato eletto alla terza votazione grazie all'abbassamento del quorum dai due terzi alla maggioranza semplice previsto dalla riforma dello statuto voluta dallo stesso Bini per evitare la paralisi che si è creata nei precedenti due cambi al vertice, compreso il suo. Per quanto riguarda il quorum abbiamo scelto come per l'elezione del presidente della Repubblica e questo ha permesso ad arrivare in due mesi al rinnovo degli organi. I nuovi organi, scelti in base alle nuove regole, dovrebbero segnare la svolta per l'ente ma ci sono ancora ricorsi giudiziari pendenti di cui uno civile da parte di una ventina di soci contro la riforma dello statuto. La stagione dei veleni quindi non può dirsi archiviata del tutto. Spero sempre in un ravvedimento operoso.